Professore, si parla di lavoro, si parla di persone al Festival della Filosofia. Il lavoro che verrà, c'è molta preoccupazione, una preoccupazione, come dire, fondata? Purtroppo sì. Effettivamente questa rivoluzione tecnologica è diversa dal passato, perché con l'intelligenza artificiale alcune funzioni che comunque erano richieste all'uomo potrebbero essere svolte dalle stesse macchine. Questo non vuol dire necessariamente che non si creeranno nuovi posti di lavoro, certamente se ne creeranno tanti, ma il secondo problema è che la prima volta che un'ondata di queste proporzioni arriva in un mondo globalizzato, con catene del valore che attraversano i paesi di tutto il mondo. Quindi non è detto che i nuovi posti di lavoro verranno immediatamente creati laddove i vecchi verranno distrutti. E il terzo tema riguarda la capacità delle persone di fare questa trasformazione. L'Ocse, per esempio, ci dice che forse non sarà il 40% dei posti di lavoro attualmente svolti a essere persi, forse solo il 10%, ma il 40% verrà svolto in maniera radicalmente diversa. Allora la formazione continua durante tutta la vita diventa cruciale. Ed è qui dove purtroppo in Italia abbiamo un ritardo. Investiamo pochissimo nel primo periodo della vita, agli 0-6 anni, soprattutto in alcune aree del paese è quasi impossibile mandare i figli agli asili di nido. E sappiamo che quegli anni sono invece decisivi per lo sviluppo delle persone. investiamo poco nella scuola, abbiamo relativamente pochi laureati, ma poi soprattutto ci mancano programmi per la formazione continua durante tutto l'arco della vita e le imprese italiane, a parità di altre condizioni, a parte le grandi, grandissime, investono meno nel capitale umano di altri paesi. Quindi abbiamo bisogno di prepararci, di cambiare le nostre politiche dell'educazione, delle politiche attive del lavoro, delle politiche passive del lavoro, ma soprattutto di cambiare mentalità.